Perché ci sono delle differenze, assolutamente, un turista gay diverso secondo me da un turista Ad esempio della se qui oggi ho spiegato il va de me comunque del perfetto hotel gay Ad esempio il nome di un hotel gay, cioè non è che si può pensare di chiamare un hotel gay pensione Clarabella Vogliamo chiamarlo, non so, ai quattro nani, ecco già ai quattro nani potrebbe essere insomma più interessante secondo me per un altro pubblico Senti invece passando ad altro, tu hai scritto un libro di cucina Quanti anni hai? Passando ad altro, quanti anni hai? Quanti anni hai? 89, sono te 50 Ma sono felicissimo di essere questo mito della gioventura assolutamente infondante Gli anni migliori sono stati 40, adesso non sono messe anni 50 Gli anni più benghi della mia vita sono stati 40 anni Quindi gay che hanno sempre paura di quest'età mi sembra assolutamente infondato Per me i 40 anni sarebbero bellissimo, sono stati gli anni più belli della mia vita E quindi io mi aspetto che anche i 50 saranno pepati Beh, ad esempio dal punto di vista del lavoro è stato molto bello Ho avuto molte occasioni di lavoro, ho fatto delle cose molto belle sul lavoro Sono stati anni in cui non sono stato accompagnato da un uomo E per ora li definisco gli anni più belli della mia vita Nel senso a volte per essere felici non c'è bisogno di avere un fidanzato E quindi adesso sono single ma felicemente single Mi sembra un buon... Va bene anche perché alla mia età un po' si chiude con l'atletica leggera Non si ha voglia di fare delle pazzie che si è fatte prima Per nessuno, per me stesso, nessuno accetta, perché sono negato per la cucina Butto delle trotme, microonde, giro la manopola e le mummifico Quindi assolutamente nessuno potrebbe mai condividere quei pasti Il libro di cucina sta andando bene Registiamo già la seconda edizione E quindi siamo felici Insomma abbastanza è un libro che sto portando in giro Le presentazioni, perché faccio questa cosa assurda sulle pentole gay In senso che mi diverto molto Le presentazioni sono molto divertenti Il pubblico è naturalmente una cosa paratossale Che non ha niente a che fare con la realtà E appunto per questo a volte è divertente Tra le cose che non hanno nessun senso Grazie 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 Grazie